Siamo sicuramente superiore al milione di euro e inferiore ai due, come parametro abbastanza elastico. Possiamo assestarci intorno a un milione e mezzo di euro di danni, però nel dettaglio lo avremo nei prossimi giorni con le analisi preventivi e anche le dichiarazioni da parte dei privati. Ci sono state dieci case che si sono andate sott'acqua e anche altrettante, qualcosa di più attività, quindi negozi. Per non parlare di scantinati, che quasi tutti gli scantinati hanno sofferto molto. Grazie a tutti.